Allora, da fotografa due anni fa sono diventata mamma e da che ero io abituata a guardare gli altri sono sentita improvvisamente che gli sguardi erano rivolti verso di me. La domanda quindi è stata abbastanza spontanea nel chiedersi ma come mai, cosa succede, come mai che in Italia, che è la patria dell'iconografia della Madonna con bambino, eppure oggi nel 2018 vedere una mamma che allassa nella sua città in un luogo pubblico mette a risato, cosa succede? Ho pensato allora che c'è questo il bisogno di riattualizzare questa iconografia che forse in effetti è un po' datata. L'ora proposta è stata proprio quella di rileggere, riattualizzare questa iconografia storica nei luoghi del contemporaneo. Ecco allora 30 ritratti di 30 mamme all'interno dei nostri luoghi pubblici della quotidianità che sono diventati 100 affissioni nella città di Bergamo. Sono affissioni pronte a essere guardate proprio nell'idea di dire e se questi non fossero poster ma fossero mamme vere, come cambierebbero le nostre città.